Ikea catalogo letti 2024 Dormire bene è essenziale e nel catalogo letti Ikea 2024 troverai soluzioni per ogni stile e esigenza, garantendoti sonni tranquilli. I letti matrimoniali Ikea 2024 come Slattum, Gursken e Songhe Sand offrono comfort e si adattano perfettamente a qualsiasi arredamento. Nel nuovo catalogo Ikea propone letti singoli versatili con modelli come Neiden, Impino Massiccio e Ramnef Gel dal design moderno. Ikea 2024 include letti contenitori come Ida, Ness e Mandal, ottimi per ottimizzare lo spazio e mantenere l'ordine nella stanza.